Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordè. In Monte Napoleone al 18 con il CEO della Nice Footwear, il dottor Bruno Conterno, questa unione di grandi brand. Sì, Nice Footwear si propone come partner per quanto riguarda il segmento sneaker e calzature per dei brand rinomati a livello nazionale. Oggi abbiamo colto l'occasione per presentare la nostra ultima collaborazione con il marchio Fred Mello. È un marchio con cui contiamo di fare un'ottima performance sia a livello nazionale che a livello internazionale. Di conseguenza è stata un'occasione propizia all'inizio della settimana della moda per presentare questa collezione presso i nostri showroom qui in via Monte Napoleone. Ecco, ma conosciamo da dove, insomma, il vostro fulcro iniziale, la partenza dalla vostra azienda, siete molto giovani. Noi siamo giovani, nasciamo a Vicenza, in Veneto, ma abbiamo, diciamo, un orizzonte nazionale e internazionale. E di conseguenza abbiamo delle cooperazioni in essere con diversi brand, ai quali ci reputano partner per quanto riguarda le calzature, dove sviluppiamo, progettiamo, prototipiamo e produciamo le loro linee sneaker o anche le distribuiamo una volta che troviamo degli accordi di Vicenza e di distribuzione. Siete già molto avanti, avete uno sguardo verso il futuro, anche la tecnologia vi sta dando una mano. Qualcosina che vi manca? Dove volete arrivare? Ma vogliamo arrivare in tutto il mondo, idealmente, quindi con uno showroom inaugurato nel 2019 a Hong Kong e sempre nel medesimo anno inaugurato questo showroom in via Monte Napoleone. Strizziamo l'occhio a tutta Europa e magari anche a uscire dai confini nazionali e internazionali, così da promuoverci come azienda leader nel segmento in cui operiamo. Sento che c'è una giovane storia ma molta esperienza, quindi il nostro augurio è quello di raccontarvi per anni per anni, perché è il Made in Italy che fa grande l'Italia. Grazie e complimenti. Grazie a voi di essere venuti e dobbiamo ricordarci di essere orgogliosi di essere italiani, sempre e comunque. Da Milano con Bruno Conterno, a voi la linea.